Ciao e grazie per venire alla programma di Cotila con Alessia e Caterina. Io sono Caterina. Io sono Alessia. Oggi stiamo cuocendo una ricetta di Blue Zones. Il progetto di Zona Blue è la gente di aiuto a vivere per lungamente con i programmi di trasformare il cambiamento e della comunità di comportamento. Il Zona Blue non è solo cibo, ma meditazione, riduzione del fumo e mantenimento del tuo corpo sano. Anche contribuisca a avanzare i costi di sanità e a migliorare la produttività. Per la nostra ricetta di Zona Blue abbiamo scelto fare un documento. Abbiamo scelto un mousse di cioccolato. Io so che il mousse al cioccolato avrà un sapore molto bene perché ha un sapore di cioccolato. Prima di cucinare abbiamo bisogno di andare al supermercato per comprare gli ingredienti. L'ingrediente principale è il dato. Per la ricetta non usare il cioccolato, ma usare il cioccolato. Adesso che abbiamo tutti gli ingredienti, facciamole il nostro piatto di bluson, del cino. Per la ricetta non usare il cioccolato, ma usare il cioccolato, ma usare il cioccolato. maci domomo Bill 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 9 ABO Edwin I'm looking forward to trying this Blue Zone dessert. It looks delicious and it looks very healthy. Um, this is a great alternative to chocolate mousse. It's part of my new healthy lifestyle. To meditate, to stop smoking, to eat healthy, and to enjoy the Blue Zone way of living, which will mean a longer life. Delicious. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast and slicing. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There was funky China man from funky China town. Oh!